Presidente, un appuntamento ormai ricorrente, in quest'anno invece che cosa avete pensato di proporre alla città? L'Accademia Vitruvio quest'anno propone una rappresentazione teatrale, sono dieci anni che offriamo alla cittadinanza un evento culturale. Quest'anno questa rappresentazione teatrale si intitola Una partita a scacchi ed è un immaginario incontro fra Giordano Bruno e il Papa che lo mandò a rogo nel 1600, fra l'altro fanese Aldo Brandini. L'idea è di Gerardo Picardo e il dialogo che si svolge fra i due nemici e amici è quello di argomenti filosofici intorno alla natura, a Dio, alla libertà. La compagnia teatrale è lo spazio T di Alghero, il tutto sarà preceduto da una breve introduzione del professor Egidio Senatore, curatore e autore RAI Cultura, che ci parlerà della figura di Giordano Bruno in termini europeistici. L'ingresso è libero domenica pomeriggio alle 17.30 presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna. Noi ci auguriamo che la cittadinanza risponda a questo nostro sforzo e credo che l'occasione sia opportuna per un divertimento.